ciao ragazzi ciao benvenuti al mio canale nel rosso nero benvenuti tutti benvenuti tutti allora vi spiego come mai sono un po sparito dalla piattaforma youtube e poi dovrò fare un video anche sulle altre piattaforme perché sono in fase di trasloco quindi capite bene che l'internet o non ce l'ho quindi sono senza wifi e quindi non posso caricare i video e quindi e quello non li faccio per un periodo quindi sarà così un video ogni tanto per farvi vedere che non sono morto ma in questa fase di trasloco la sapete molto bene com'è chi l'ha fatto lo capisce non è facile io sto pressando il mio fornitore a modo che me lo faccia me lo metta il prima possibile però ragazzi ecco arrivato a questo arriviamo al tema principale che è il mio milan il mio millissimo milan però prima di parlarne possibilmente io vi chiedo lo sapete no no tanto mai il like di sostegno andiamo dai un like che gratuito a te non ti costa niente nulla soltanto un click ok e a me mi alza il morale ok e aiuta questo video a essere spammato su tutta la piattaforma di youtube a modo che altri rosso neri come te vengano a conoscenza di me di questo dominicano carino cocoloso e simpatico che ti piace tanto ok adesso sì senza senza tanto spam parliamo ok del mio milan e della cosa che a me preoccupa allora io ho avuto avere a che fare con dei tifosi soprattutto nei social in cui sono stizziti di questa strategia che avevo detto già in tempi non sospetti del milan da aspettare fino alla fine per il nome dei contratti io l'ho detto per sempre che voi più vecchi canali più sostenitori del canale che sono dietro il live con me che io vi ho detto più delle volte che il milan non si può permettere dei stipendi da champions se in champions non si va quindi sicuramente rimanderà a tutte le trattative alla fine se per esempio arriviamo a due giornate della fine noi abbiamo l'arrivo in champions assicurato sicuramente il giorno dopo si chiude con contratti se fino all'ultima giornata l'ultimi dieci minuti ancora non si saprà non si firma perché l'ingaggio è una parte molto importante di una società e soprattutto in questo periodo di crisi economica non puoi ripeto fare un contratto da champions se in champions non ci vai indipendentemente se il giocatore si chiama donna roma se il giocatore si chiama c'era no lui così via dicendo hai un organigramma noi abbiamo già pagato ok diciamo il free play finanziario evitiamo di cadere su quella trampola quindi io esposso ok la scelta della società perché ragazzi il milan non è il giocatore il milan è tutto nel suo complesso e se il milan fa un passo più lungo della gamba perdi solo il milan cioè preferisco perdere donna roma e non perdere il milan perché io amo il milan non donna roma non sono tifoso di donna roma cioè io sono tifoso del milan e se il milan per il bene del milan e fare questa strategia qui sarebbe bello e corretto capire la società per quel motivo lo fa non ha sicuramente la gioia nel cuore maldini a sapere che rischia di mandar via a zero donna roma e c'era no però ragazzi altrettanto altrimenti non si può fare capite poi un'altra cosa ma allora tu stasera sei per il napoli o sei per la juve ragazzi io sono per il milan non sto dicendo questo tanto per ti è veramente così cioè per me che vinca il napoli o che vinca la juve se posso scegliere che vinca il napoli direino tutta la vita perché se quando perde la juve vince la sportività lo sapete bene l'anticalcio mai nella vita però sinceramente è indifferente sinceramente a me è indifferente io voglio vedere il milan cosa fa a parma che milan vedremo quello che avevo visto contro la Sampdoria quello che avevo visto contro la Firenze cioè è questo cioè il milan ha fatto se non mi sbaglio 17 punti in questo girone di ritorno è po' è po' per come macina questa squadra è veramente po' e quindi questa cosa mi preoccupa se tu fai ok questo girone qui con questi punti qui vuol dire che hai sbagliato qualcosa e non è soltanto l'infortunio di la malattia di e la squalifica di no cioè hai sbagliato un qualcosa non che sei rotto un qualcosa hai sbagliato un qualcosa quindi cioè o ci mettiamo davvero perché allora se tu fai un girone solo con 17 punti avendo la possibilità di aver fatto tanti altri punti vuol dire che hai regalato e se hai regalato vuol dire che non sei concentrato vuol dire che c'è qualcosa che non va io voglio sapere cos'è che non va voglio sapere cos'è quel qualcosa e voglio che si sistemi perché io in Champions voglio andare cioè ormai il campionato ripeto il primo posto in classifica se è deciso lo vince l'Inter se non lo vince perché l'hanno perso ripeto se non lo vincano loro è perché l'hanno perso loro perché buttare via i punti di vantaggio che hanno cioè ragazzi chapeau perché hanno fatto una fila di vittorie che ci abbiamo messo anche tanto del nostro per essere così lontani perché ripeto hai fatto solo 17 punti puoi dire che hai sbagliato tu qualcosa non soltanto la sfortuna ma hai sbagliato tu un qualcosa perché se non ci sta quindi io voglio vedere l'arteggiamento perché tanti hanno detto sì ma il risultato non conta non è successo nulla ragazzi però l'arteggiamento del Milan non me l'ha gravato non me l'ha piaciuto niente quindi io sono curioso di vedere ora che Milan ci presenterà Pioli perché io non voglio un pareggio non voglio assolutamente la sconfitta io voglio una vittoria a qualsiasi costo perché indifferentemente di chi vinca stasera te devi allungare e fare punti devi dare continuità al tuo progetto con continuità a una stagione che fino a un mese fa eri la capolista non mai puoi adesso clorare in quel modo sono curioso di sapere la vostra qua sotto nei commenti leggo tutti lo sapete fatemi sapere voi cosa secondo voi è successo a questo Milan se voi avete una preferenza per la partita stasera e se siete d'accordo con il discorso dei rinnovi qua sotto nei commenti vi leggo e ci vediamo per un altro video del nerd alla prossima